Belli chicchi, più del 50% delle persone che guardano i miei video non sono iscritte al mio canale Quindi se sei uno spettatore abituale o semplicemente un affezionato Ti chiedo di lasciare un like, iscriverti al canale e attivare la campanella Questo è un piccolo gesto che può fare la differenza sulla vita di questo canale Quindi mi raccomando regà Ah, e come al solito, buona visione Petardi sul Milan Decebio Sono a casa Ciao papà, dove è andato? Eh, sono andato in trasverta Abbiamo giocato in Champions League contro... Contro il Barcellona, stanno a fare replica Più che il Barcellona mi sembrava il Crotone Anzi no, col Crotone ci avevamo pareggiato Oh, chissà che si è regalato omogrezzo, guarda quanto sta in paranoia Ma chi stava a pensare? Secondo me stava pensando alle teorie della complessità computazionale E secondo me invece stava a pensare ai buffi che c'ha qua Zizza Se non paga entro fine mese lo fanno zompa in aria Certo, una cosa c'è da dirla, eh In televisione so bello Però a dar vivo so bello uguale, eh Tiè, guarda l'umpa l'umpa che cerca di raccogliere la dignità che io ho levato dopo sta partita Oh, manco io da del tempo di entrare in campo Subito, bam Carcio di rigore per me, guarda come me lo so meritato Ma dai papà, ti ha dato una carezza, sei svenuto Ma che ce vuoi capite, te carcio, non ce capisci niente, vai a sartare la corda sul grande raccordo anulare, vai vai E ovviamente batte il grande Ceresette, cioè io spiazzo tre seghe ed è gol Tiè, tiè, tiè Il Barcellona non pervenuto stava a giocare a chi i magazzinieri stava a giocare Infatti, dopo sette minuti, maccanni, perché è romano, se dice maccanni Fa una sforbiciata come gli ho insegnato io e il sottoscritto, me è medesimo Poi siccome è americano, ammo fatto, tu vuoi fare l'americano, americano, americano Ammazza papà, per gol Ste sultanze in cui se smoccio la sua maglietta, gli hai insegnato a te? Guarda qua l'umpa l'umpa che prova a segnare, ma a noi in porta c'è mononno Gigi Infatti Gigi per Gigi Gigi per Gigi Gigi, 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 Gigi E Morata come ha giocato? Ma come al solito, già negli spogliatoi stavano fuori gioco Ma perché non c'è Cesni in porta? Boh, se vede che Pirlo non sapeva come si scriveva, l'ha lasciato a casa Oh, qua comunque, Messi ti ha fatto proprio vedere il pallone Ma che me frega del pallone, io sono andato dritto su la cavia Guarda che cuccioli, il Barcellona purelli, mi facevano pena Guarda come provavano a attaccare con desto, sinistro Che teneri Ammazza oh, qua tre seghi ha fatto una grande parata Sì, è vero, si era montato un po' la testa, ma ho pensato io a ridimensionarlo Con la complicità dell'Englè che pensava di giocare a palla a volo Secondo carcio di rigore Chissà che lo batte, eh? Ammazza papà, alla Juve ti hanno dato più rigori che milioni A falla finiscila Tiè, guarda come lo spiazzo Partita chiusa Juve prima nel girone Messi umiliato Dai papà, sono contento per il tuo percorso Sarà l'ennesima finale persa Famo sta scommessa Se finisce così, io perdo i finali E te perdi i denti Belli chicchi, come al solito Lasciate un bel like Iscrivetevi al canale Attivate la campanella E seguite su Instagram Per rimanere aggiornati Su tutto il mondo dei tossicodipendenti Come i parasticchi Noi si vediamo al prossimo video Belli chicchi Mua!